Il primo impatto, come sono entrato, adesso non ricordo bene cosa c'era scritto di preciso però, come sono entrato c'era una scritta, si vedeva molto bene, c'era scritto nascondere un errore di lavorazione è crimine, più o meno c'era scritto così. Mi ricordo che sono entrato e avevo i pantaloncini corti con le scarpe da tennis. A quei tempi lì gli operai non è che ti insegnassero tanto, dovevi imparare a rubare perché non tutti però la maggior parte ti insegnava poco e niente. Quando sono entrato c'erano dei latonieri, noi eravamo garzoni e pian pianino l'abbiamo rubato il mestiere, forse di stare lì si imparava, poi c'era l'ambizione di sapere fare. La piaggio è unica per una serie di ragioni. La prima è che a livello mondiale ancora oggi non sono a conoscenza di nessuna ditta che lavora sia nel campo motoristico che velivolistico, poi è anche l'unica azienda in Italia che abbia avuto tutta una serie di prodotti nella sua storia che progetta e costruisce. La piaggio era una grande famiglia dove su 1200 dipendenti, arrivati anche a 2000 dipendenti, più della metà erano di finale o di intorni. La piaggio è sempre stata parte integrante della città, anche se al di là dei suoi cancelli si apriva un mondo completamente diverso da quello che era il mondo della città. La stragrande maggioranza delle persone quando uscivo poi nel paese le reincontravo al sabato, alla domenica, quindi era un rapporto che si prolungava poi lungo tutto il periodo della vita. La sirena quando suonava era il segnale che i genitori arrivavano a casa e bisognava camminare di corso a casa. Quello era il segnale dei bambini, la piaggio quando suonava la sirena era come carosello, quando suonava la sirena a casa. Quando ero bambino andavo a spiaggia vicino a Soprimiglia della piaggio e vedevo sempre un velivolo che usciva dall'hangar, lo trainavano degli operai, lo mettevano sotto una gru, la gru lo sollevava, lo metteva in mare e questo era il P536 idrovolante. E cominciava a fare i primi voli, i primi collaudi e quello mi ha sempre entusiasmato. Quando ho avuto la possibilità e anche la fortuna di entrare alla piaggio, la mia mente, il mio pensiero era andare a lavorare sul velivolo, su quello che da bambino ci ho fantasticato. La mia famiglia era numerosa, quattro figli, io ero il più grande e penso che la segnalazione del prete che conosceva lo stato della famiglia ha fatto sì che io entrasse in piaggio. Sono stato segnalato e sono stato entrato in piaggio nel 1960. Per me la piaggio è stata una famiglia, è stata importante. Ricordo che mia mamma quando ho detto che mi avevano assunto alla piaggio, lei ha detto è come avessimo fatto un 13 al totocalcio. Nel latonieri praticamente passava tutta la parte metallica, passava di latonieri, tutta roba in lamiera e lavoravamo tutta la carpenteria, senza stampi, senza niente. La filosofia che è sempre regnata la piaggio è tutti i pezzi che sono fabbricati, cioè che vengono costruiti singolarmente partendo da un materiale grezzo, li facciamo noi. C'erano un sacco di pezzi, di particolari, anche complicati, che venivano costruiti dentro la piaggio. Questa era la filosofia dei primi tempi. Quando si produce un aereo intero, tipo il 180, quando si produce dei motori, tipo i motori delle frecce tricolori, io credo che di tutta la produzione meccanica diciamo che siamo al top. La cosa che io ho sempre fatto volentieri, come i miei colleghi, è la cosa di lavorare per la battuglia acrobatica. I motori della battuglia acrobatica, delle frecce tricolori, le revisionavamo noi alla piaggio. Il dottor Piaggio sapeva e ha sempre detto, io mi chiamo Piaggio, faccio gli aeroplani, so che mi costano, ma mi piace mandare in giro per il mondo aeroplani che si chiamano Piaggio. Noi abbiamo sempre saputo che i velivoli sono sempre stati un costo, i motori molte volte erano un guadagno. Il 180 è nato, è cresciuto, ha avuto un grande successo. Da noi il direttore tecnico, il direttore del settore aerodinamico, ha sempre voluto cercare la perfezione. Il 180 volo ancora adesso e qualcuno ce lo invita. Da noi passavano dei particolari che venivano assiamati e che dovevano portare in volo della gente. E questa era una responsabilità molto grande. E io il giorno in cui sono uscito dalla piaggio, quando ho varcato il cancello, io non nascondo che mi sono fatto il segno della croce. Perché non mi era successo niente, per fortuna, di nostra responsabilità. Giusto per farli capire il perché ne eravamo orgogliosi. Siamo orgogliosi anche perché c'erano delle responsabilità. I singoli operai che assiemavano i vari subassiemi, ogni operazione che facevano la timbravano. Il timbro era personale. Quando arrivava in piaggio la notizia di un velivolo caduto e che portava uno dei nostri motori, era una rincorsa per andare a vedere la cartella del motore, chi aveva montato il motore. Se non ci arrivavano prima i militari. Tutti avevamo le responsabilità perché chi è un tornatore, chi è un collodatore, chi è uno che guardava la qualità. Io come saldatore, certe volte saldevamo sopra dei... Mi ricordo sempre, il quarto stato, un particolare, non voglio dire qual è. Finito, finito, costava 70 milioni. Noi andavamo a dare due punti su di una boccolina per finire. Era l'ultimo lavoro, costava 70 milioni. Se io davo una fiammata da qualche parte nel fare quel lavoro lì, era la mia responsabilità. Io ero responsabile di quello che facevo in quel momento. Se ammazzavo un pezzo così, cioè se... Diciamo ammazzavo. Quando si sbagliava, diciamo... Allo massuno in tucco. Eh, potevo uscire dalla finestra, neanche più passare dalla portineria. Facevo prima. Però io posso dire, come tutti noi, possiamo dire che siamo stati orgogliosi della Piazza. Allo massuno, poi noi siamo... Allo massuno. Noncio che vi cercheri, non